pescatrice locale 32 kg guarda qua vieni da vicino belen e che stanno proprio posteriore solo pesci locali cerni locali vieni a vedere peppe guarda qua guarda che spettacolo vieni da vicino vieni a vedere guarda qua orate di mare locali solo mare scorfani di fuoco cerni solo locali guarda qua solo cerni locali ripeto guarda questo guarda quanto è bello super spettacolo cerni bianchi cerni bru scorfani di fuoco guarda e il fumarolo lo pia non lo dico astici sempre tutte vivi 19 e 99 riprendi sempre a 19 e 99 sempre alle vive peppe guarda riprendi 19 e 99 stammatire di primo spettacolo romano diamo un geno all'ha abbiamo fatto vedere prima la sala parto ma lo porto nella sala operazione vieni peppe stammatire in grucofani prezzo pazzo oggi è venerdì è venerdì comincia il weekend peppe alici 1 e 50 kg riprendi super spettacolo pedane di alici cozze sempre 1 e 50 guarda come sono belle sticco tutte pulite peppe riprendi tutte pulite 1 e 50 kg sempre solo a 2 minuti vieni compri peppe partiamo subito qua alici giganti 2 e 99 lupini sempre 2 e 99 kg ostiche per tutto quanto peppe sempre a pedane ostiche stammatire paesane 2 e 99 lupini paesani vieni a vedere peppe guarda che spettacolo cammini a vedere peppe o paesani vengono ai giganti ogni vengono ai 1 kg lupini grati città lì pesce spalla presto stamattina offerta pazza 12 e 99 battaglia vieni con me peppe andiamo a capo scompri sempre 1 e 50 misto 1 euro a kg guarda che questo misto quanta peppe 1 euro guarda che spiega 5 e 99 calamari 10 euro cefali 1 e 50 gamberi freschi 3 e 99 merluzzi vivi 4 e 99 ma per noi ci vado come subito per noi rossi e tosti 2 euro e 99 kg seppia fresca 8 euro scampi 6 e 99 vedete peppe attacca caciolta attacca mazzano pescatrici 8 e 99 balanza protesta tutta bucata 6 e 99 kg tocci 6 e 99 polipetti 6 e 99 pezzogna è grande che si fa il sogno eh mamma mia spettacolo gamberoni a 110 euro vieni con me peppe fatti questa panorama seppia fresca adesso si si vive 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 prendi gli occhi 12 euro a kg tendici i pagheri 12 euro e 99 spigole grandi rombi calamari gamberi rossi a montagna belluzzi i palancari peppe stamattina super offerta i palancari 6 e 99 kg e tenga quanti qua quando è pulito non è passato finito è venito pure senza sordo peppe a te che spettacolo ripeto vieni 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 altrici sempre con tutti che cosa guarda è per le sacchie di purpa e vieni vieni volpi sulle locali ripeto spettacolo del mare guarda e da mattina teniamo cacchier roba da correre tutto qua guarda quanta bucate della senso andano a ucchida e tenapi per tutto qua e tenapi per tutto qua pulpitielo per tutto qua vieni vieni a vedere peppe sali su calamari alla locale di io c'era qui scerchi al locale peppe riprendi la locale bocconcini di frosido e i bocconcini di muzzarezza guarda cacca per i locali piccoli mignoni che mignone tengo Peppe, guarda, riprendi, riprendi le scoglie originali Peppe, riprendi gamberoni rossi, gamberi bianchi grandi, scampi sempre vivi, guarda Peppe, spettacolo del mare, gamberoni di mare, spigoli, scorpi, ricciole, guarda, teniamo tutto il coso, venite a durare, guarda, c'è una piazza, spettacolo del mare, orate di mare solo locale, guarda, vi aspettiamo tutto il mondo, il banco più bello è sempre più fornito, pure un mese di luglio, un mese di salone, teniamo sempre tutto il coso, guarda, venite pure senza soldi, che non vi teniamo, guarda, vi aspettiamo tutto il mondo, un abbraccio, un bacio forte, lo figlio lo porto, ciao ragazzi.